Una mostra d'arte importante, quella allestita nel mistico scenario della chiesa di San Severo al Pendino, un momento importante per riflettere sulla genialità e sulla creatività. Art in color, questo il titolo della mostra curata da Rosa di Donna e che ha visto la presenza di opere inedite di molti autori che con le loro creazioni contribuiscono all'eccellenza culturale della nostra terra. Tra le opere esposte spicca la maestria artistica postmoderna delle due creazioni di Nicca, le cui sinuose curve e colori disegnano figure reali che anelano ad un mondo superiore.